obiettivamente sinceramente mi piace sia esteticamente che caratterialmente nei modi in tutto credo che lei sia in una situazione in cui deve deve capire magari molte volte se se mi sento di dare un abbraccio così mi rendo conto di frenarmi perché non vorrei metterla in difficoltà mi trattengo di più io però non voglio mancare di rispetto assolutamente una ragazza che mi piace fidanzata a 10 anni questa è proprio la mia storia in generale allora rosalinda gli altri gli altri non hanno sentito questo confessionale salone lo sentiamo io te il pubblico ok allora io vorrei approfittare di questo per capirne un po di più allora intanto non ci aspettavamo che andrea che di solito è così ritroso a voler esprimere i suoi sentimenti giocare a carte scoperta in questa maniera non me l'aspettavo nemmeno io questo confessionale hai capito infatti è stata una sorpresa che che cosa ti che cosa ti muove dentro che cosa come lo interpreti sicuramente come ha detto lui ho una situazione fuori importante che dura da 10 anni che devo ovviamente risolvere mi aspetta diciamo un confronto importante è stato un confronto importante è stato un confronto importante è stato un confronto importante